Arte Casa propone in vendita in zona San Paolo, uno dei quartieri più apprezzati di Novara, questo attico di 93 metri quadri circa al quarto piano con ascensore. Bellissimo il terrazzo, anch'esso di circa 93 metri quadri che abbraccia l'intero appartamento. L'ingresso è living sul soggiorno. La cucina abitabile è caratterizzata da una vetrata con affaccio sul resto della zona giorno. Questo permette una creazione di un ambiente moderno, conviviale e accogliente. Inoltre due camere e un bagno padronale, oltre ad un secondo piccolo bagno adibito a lavanderia. Completano la proprietà una cantina e un box auto. Punti di forza, la luminosità, la vivibilità anche esterna e la zona ricca di servizi, a partire dalle scuole di ogni grado nelle immediate vicinanze. Per tutte le informazioni, Arte Casa Immobiliare. Arte Casa. L'arte di vendere case.